I comuni del parco e quelli non del parco, quindi aderenti alle unioni, accolgono di buon grado questo ritorno di questo festival. Per quanto riguarda la nostra unione Valle Orche Soana, proprio per questo abbiamo accelerato i tempi per accogliere chi verrà a questo festival con l'allestimento di una nuova rotonda dedicata al parco, appunto all'imbocco delle due valli Orche Soana, come porta d'ingresso al parco del Gran Paradiso. Grazie.